Poggio Manente Country House è una struttura situata nei pressi di Umbertide, dove potrete festeggiare le vostre nozze nella suggestiva cornice di un antico mulino del 1600, immerso nella tranquillità della campagna. La struttura è dotata di ampie sale in stile rustico, rifinite con materiali naturali quali pietre e legno, che creano un ambiente romantico e accogliente. Il grande salone per cerimonie, situato in un'area della casa recentemente restaurata, sarà perfetto per il vostro banchetto. All'esterno potrete approfittare dei bellissimi angoli verdi e dello spazio intorno alla piscina per ambientare diversi momenti della festa durante la bella stagione. I gestori della location vi aiuteranno nella preparazione dell'evento in ogni sua fase e saranno felici di mettere a vostra disposizione uno staff di specialisti che vi guiderà nella scelta delle idee più creative e originali per rendere unico il vostro matrimonio. Il ristorante del Country House preparerà per voi un menù ad hoc, elaborando le pietanze più prelibate e tipiche della zona, con prodotti freschi e genuini. I vostri ospiti verranno conquistati dal sapore autentico dei piatti e dalla creatività degli chef nella presentazione delle portate.